e dopo aver sfidato il pallone d'oro di tik tok italia luca campolunghi e dopo aver sfidato il pallone d'oro delle ragazze ila limelli oggi ti faremo sfidare il pallone d'oro di twitch italia ovvero chris la way signori vieni qui come stai tutto bene tutto bene fresco di vittoria di vittoria del pallone d'oro mi hai detto che anche te giochi a calcio giusto giochi a calcio due che giochi in svizzera e raccontami un po le tue esperienze fino adesso come sta andando il campionato non benissimo siamo ultimi a pari merito con l'ultimo però oggi ci sarà un'altra sfida per te perché vincere il pallone d'oro di twitch italia non basta oggi ti voglio sfidare ho già sfidato luca campolunghi che ha vinto in maniera clamorosa perso anche contro il alimelli io ho perso anche contro il alimelli e oggi vincere una sfida o no quindi oggi ragazzi farò di tutto per vincere almeno questo almeno ci provo per voi quindi chris visto che sei prontissimo ti spiego quello che andremo a fare oggi oggi tre sfide molto semplici la prima crossbar challenge una rigori challenge perché sono rigorista in promozione uno contro uno finale capito fanno pronto bravo la calcio vai perfetto e allora iniziamo subito con la traversa challenge prima sfida crossbar challenge il primo che arriva a due traverse prese vince si porta un punto a casa ok bene ragazzi chris ti farei a partire a te dai parto io bro il primo che arriva a due traverse colpite avrà vinto sfida di precisione vai fuori allora sta a me colpire la traversa vai fuori come on come on dai proviamo ad esterno vai chris niente stimare la vittoria del pallone d'oro aspetta io se di tu anch'io ho sentito qualcosa ho sentito qualcosa che di solito non sento se ho sentito il rumore di una cazzata perché non ha preso niente mais oh oh wow se youtube queste non sono traverse no suchs apse spiace come giocatori no calma come solione Samueel! Dai oh! Ora iniziamo il video, in serio! Ecco! Ma no, ma non ci credo, ma scende all'ultimo! Ma cazzo! Ecco Samueel! E non va! E' questa! E' magicamente! Centrazione! L'ha colpito! Questo è malissimo! Oh che allora Samueel! Guarda che le traverse non fanno però Samueel ma fanno 6! Qui! Attenzione! Niente! Oh avete rotto il c***o! Basta fare così! Ma si vuole tanto, ma da! Via! 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 Adesso la prendi di potenza! Via! Adesso la prendo io di potenza! Via! Voglio rischiare! Pro ma se ti becco sulla testa e va sulla traversa vale? Vale! Boh ma allora la faccio così! Testa a traversa! E quindi ragazzi! Ho l'ultimo tiro! Se no! Male male! Non la metterà mai! E' molto difficile! Sapete cosa hanno in comune il dentifricio of Samueel che sono entrambi perdenti! Quindi ragazzi questa prima sfida se la giudica Chris! Bravo Chris! Seconda sfida! Gara di rigori! E' il tuo forte bro! E' il mio forte! 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 E non puoi perdere bro! Seconda sfida! Calci di rigore con un portiere d'eccezione! Cinque rigori a testa e chi fa più gol si porta anche questa volta il punto a casa! Parto! Io stavolta signori voglio partire forte perché ho perso la prima sfida e mi sta dando molto fastidio! Prima rigore su cinque! Dai! Ragazzi! La chiamavano la punta degli ossi! No! Confiscato a Chris! Non è più suo! Mi dispiace per Chris ma i rigori non si tirano così comunque! Vai Samueel! Bello! Si tirano così i rigori! Ma Samueel stavo sbagliando! Questa è la vera punta degli ossi! Ah ok! Mirala hermano! Bella! Bello! Questa è la punta! Davo! E' il male dei di ossi! Siccome sono arrogante Chris pensa di essere il mago delle punte! Ma non ha capito che qua di punta ce n'è solo uno! Eccola! Questa è la punta! Aspetta che voglio vedere se ho capito bene! Sto spiegando che devo prendere tre passi e darci più potenza ancora! Ok tira da caso però! Si! E fare gol! Tipo così! Si! Ragazzi ho visto appena l'ospedale! Quarto tiro per me! 3 a 2 per Samueel! 3 a 2! Occhio Samueel! Oh! Che bello! Il gattofene! Come salta! Dovevo cambiare... Dovevo cambiare... Dovevo cambiare la Loon! La concentrazione! Degli occhi di chi può pareggiare questa sfida! E' il collo del querco! Parte Chris! Ci fa! E' fatto! Ultimo tiro! Silenzio! Di tomba! Samueel! Oh! Oh! Ha tolto le ragnatele! Oh! Si calza così! Complimenti bro! Però guarda qua bro! Però guarda qua! Si sconde così! Sfida tra titani! Sfida tra balloni d'oro! You can see me! You can see me! You can see me! You can see me! Prendila! Prendigela! Fammi vincere! Fammi vincere! Ebbene Chris, la seconda sfida è andata! 1 a 1! Adesso l'ultima sfida è decisiva! Si arriva ai tre signori! Sarà secca! Ragazzi! Andiamo! Let's go! E' giunto il momento di mettergli alla prova il pallone d'oro di YouTube Of Samuel che tutti conoscete contro la New Entry nella crew dei palloni d'oro Chris Laway per Twitch Italia Ma prima facciamo subentrare l'arbitro più forte più incredibile che avete amato di più di YouTube Italia Om! Om! Entra dentro! Dov'è Om? Omar! Vabbè Om è andato via quindi prendiamo Isaac! Benvenuto! Per questa sfida sarai tu ad arbitrarla! Perché Om? Om? Ti sembro Om? No no no! È che Om non c'è e quindi ho detto vabbè accontentiamoci e facciamo entrare Isaac! Io sono meglio di Om! Ok? Ok! 3! 2! 1! Si comincia! Primo possesso da parte di Samuel allora! Attenzione! Chris che inizia già a camperare! Occhio! Fa un po' il piedino della situazione allora occhio Samuel destro sinistro si sposta la palla sguardo teso al suo avversario potrebbe provare un elastico di Rabona provare la giocata invece di gambe Samba do Brazil Chris cerca di stare lì dietro Samuel giocata! Palla fuori di pochissimo Occhio allora Chris con la sua forza vediamo se si ricorderà di usare il fisico porte ancora inviolate oh mamma mia Samuel passa e la butta dentro ora a zero gol convalidato? Convalidato si Occhio Chris che deve già cercare il pareggio prova ad avanzare di fisico ma Samuel non si passa attenzione ancora Chris difesa ricordiamo Chris prova a passare occhio può provare il tiro di prima ma viene murato da un off Samuel che cerca di ripartire Chris di fisico e di potenza la butta dentro 1 a 1 Gana contro Svizzera entrambe le nazionali sono i mondiali l'unico che non è i mondiali sono io attenzione Samuel occhio a Samuel occhio a off vediamo se spegnerà le luci dell'avversario occhio a Samuel allora che avanza deviazione può ripartire la way si respira aria di tensione a questo punto della partita nessuno vuole mollare nessuno vuole cedere attenzione Chris che prova ad avanzare prova a passare attenzione una cavalcata delle sue doppio passo finta il tiro e rete 3 a 1 ed adesso se Samuel segna vince questo match occhio allora Chris la way col pallone prova ad avanzare sul suo avversario si incrociano le gambe ma anche i loro occhi occhio a Samuel che potrebbe anche provare dalla difesa decide saggiamente di no allora te siete giocata come un treno mamma mia ha perso l'attimo ma poteva essere la fine allora ancora Samuel con la numero 4 attenzione con la destra a sinistra viene respinto dalla way ci prova ma la palla non va occhio Samuel che si destreggia con i suoi soliti mezzi con i suoi soliti metodi prova al tunnel ma non funziona occhio la way che riprende il possesso di palla occhio allora la way che prova ad avanzare con il suo solito movimento Samuel prende il pallone attenzione potrebbe essere un momento decisivo si ferma ritorna sul destro il tiro murato dalla way che non vuole mollare un centimetro partita ancora attiva occhio bellissima avanza come un treno in ferma no dato un pallo calcio di rigore e allora calcio di rigore per chiudere la partita sul 3 a 1 coach Pippo ti sta guardando è l'occasione per vendicarlo guardalo negli occhi fai ciò che non è riuscito a fare lui tiro che potrebbe essere decisivo e la palla va fuori occhio alla way allora che prova ad avanzare doppio passo si gira sul destro la way ha ancora delle speranze palla fuori uh ci prova attenzione destro sinistro sta succedendo tutto molto velocemente tunnel che busta che gol che gol che gol vince off Samuel 3 a 1 pallone d'oro di Twitch battuto dal pallone d'oro di YouTube off Samuel complimenti Samuel spaccato e allora ragazzi si conclude qua wow 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 finalmente ragazzi devo dire che sei veramente forte e tosto soprattutto perché difende bene ragazzi eh ragazzi questo video si conclude qua io ringrazio come sempre i mitici Pierre Lasv prossimamente sarò di nuovo soggetto ad un altro pallone d'oro e dovrò riconquistarmi il secondo pallone d'oro di fila ci riuscirò chi lo sa rimarrà solo da scoprirlo a dicembre ragazzi ringrazio anche Chris Laway link in descrizione per il suo canale per essersi prestato questo video il mitico arbitro Gabri che mi sta filmando e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi e ragazzi volevo ricordarvi che questo video è stato sponsorizzato da riso con il pollo mi raccomando mangiato mattina branzo cena mi raccomando c'è dio poi c'è riso con il pollo let's go io sono samuel e mangio il riso e con il pollo e con il curry con il pollo